Mi fa molto ridere quando mi chiedono se dopo 14 anni abbiamo ancora una vita sessuale, se scopriamo ancora. Certo che scopriamo ancora, ovvio che scopriamo ancora. Con altre persone ovviamente, non tra di noi, non tra di noi dopo 14 anni, che razza di depravati! Dovremmo, da 7 anni in avanti è incesto di cosa stai parlando, non voglio problemi legali.